Allora, buonasera amici del Fadell'Acqua Rossa, siamo qui con Dario Porcelli, capitano della squadra Porcelli Team. Grande vittoria, si vola ai semifinali contro Valterino Celletti, che partita è stata, caro Dario? Grande partita, leale, giocata bene da tutte e due le parti, bella partita, bel divertimento, bello tutto. Adesso si farà molto dura perché in semifinale affronterete la coppia Berthei-Lisi. Durissima, con un troppo brazzata, Berthei-Lisi, noi ci giochiamo le nostre possibilità, quello che viene fuori è tutto guadagnato. Caro Dario, come hai visto oggi tuo fratello Giuseppe? Oggi più sottotono del solito, sotterrava le pallette prima della rete addirittura oggi, ma per fortuna non ha chiappato nessuno. Quindi proviamo a vincere questo torneo? Ci proviamo, anche se sarà molto difficile. Va bene, ti ringrazio. Ciao, un saluto al Kekko Vai del Centro. Ciao.